Betty! Sono venuta a ripresentarti Woody Karts. È lui che farà la parte con te. Piacere di conoscerla. Allora, vogliamo dare il via? O per cosa un po' d'acqua o qualcosa prima di cominciare? No, grazie. Sto bene così. Non è una gara. I due vivono di vita propria. Perciò non vuole che recitiate. Aspettate di diventare veri. Ok. Come ti chiami? Betty. Adesso non la recitiamo come che per il film. Va bene. Azione. Inizio scena. Sei ancora qui. L'ho fatto per te. Credevo che lo volessi. Non ti ci vuole nessuno qui. I miei genitori sono al piano di sopra. Sanno che te ne sei andato. Guarda che posso chiamarle. Posso chiamare mio padre. Ma non lo farai. Stai giocando a un gioco molto pericoloso. Se stai cercando di ricattarmi saprai che non funzionerà. Tu sai quello che voglio. Non è difficile. Battene via. Battene via prima che chiami mio padre. Lui si fida di te. Sei il suo migliore amico. Smettila. Devi smetterla. Rovinerai tutto se fai così. Se racconterò tutto quello che è successo ti arresteranno e ti metteranno in prigione. Perciò vattene via prima che... Prima che? Prima che... Io ti uccida. Ma così metteranno te in prigione? Io ti odio. Io ti odio anche me. Bene. Questo è quanto. Mi è andata molto molto bene, bambina. Ci sai fare. Grazie. Bene. Molto bene davvero. Io ti ringrazio Betty. Sei stata straordinaria. Tua zia può essere orgogliosa di te. Grazie. Allora... Io te ci sentiremo e ne riballeremo. Grazie. Grazie tantissimo davvero. Piacere di avervi conosciuto. Arrivederci.